Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono di nuovo qui con un meraviglioso video di Serkan Kayoglu e Oje Gurel. L'inaspettata dichiarazione del bell'attore Serkan Kayoglu sulla sua relazione con la talentuosa attrice Oje Gurel è diventata un argomento di tendenza sui social media. Serkan Kayoglu, che ha deciso di porre fine alle questioni in corso riguardanti la sua relazione con l'attrice Oje Gurel, ha rilasciato una dichiarazione. Serkan Kayoglu ha dichiarato quanto segue in un'intervista esclusiva. Ha negato fermamente la notizia delle accuse di separazione, affermando che le speculazioni sulla fine del loro amore erano del tutto infondate. La notizia della rottura di Oje Gurel e Serkan Kayoglu, di cui si è parlato nei media e nei social network nelle ultime settimane. Ha creato un'ondata di speculazioni e preoccupazioni tra i fan della coppia. Tuttavia, l'attore turco ha deciso di chiarire la situazione e condividere la verità dietro le voci. Nell'intervista ha spiegato che le false accuse e speculazioni su Serkan Kayoglu hanno avuto un impatto negativo sulla sua vita. Serkan Kayoglu, Oje Gurel e io siamo più forti che mai. L'idea che dovremmo separarci è completamente sbagliata. Detto, ha anche sottolineato l'importanza della privacy nelle loro relazioni e la necessità di proteggere la propria vita personale. Oltre ad aver accennato alla pressione mediatica che spesso accompagna le celebrità e ha fatto il seguente commento. Siamo umani prima che giocatori. Grazie per aver guardato le notizie che ho raccolto per voi fino alla fine. Arrivederci. Ci vediamo con nuovi video.